Una cosa che mi ha colpito in questa giornata, di solito si dice cortomuso, ma io preferisco dire, siccome sono un po' vintage, le vittorie di misura. Sono state cinque. È clamoroso che questo partito sia scritto italiano. Si è scritto anche italiano, tre di seguito. Quindi di queste cinque vittorie, di cui quattro nell'alta classifica e una invece nella zona retrocessione, che la Salernitana ha fatto una vittoria comunque molto importante, io ne scelgo due in particolare, quella della Juventus e quella della Fiorentina. La Fiorentina, come hai detto tu, terza consecutiva, ed è una squadra che sta dimostrando che può vincere anche le partite un po' complicate, un po' spigolose, non solo bella, ma anche concreta. E così, secondo me, può anche sognare la zona Champions, se prende questo tipo di trend. Non so se sei d'accordo. Sì, 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 sono d'accordo. Mi gioco un primo cuori alla Fiorentina. Il secondo, e dopo ti lascio a te il commento, è alla Juventus di ieri, che ha dato ancora una volta la dimostrazione di essere una squadra che in questo momento riesce a ribadire la sua solidità difensiva, come sempre. Un muro dove ti lascia il pallone e te quel pallone lo tiri contro il muro e te torna indietro. Non c'è niente da fare, proprio. Non c'è dubbio. Sesta vittoria consecutiva per 1-0. Quindi queste vittorie di misura stanno portando dei punti. Ma permettimi anche di dire che è anche bello vedere le squadre che vincono così. Perché poi c'è anche la parte di lottare fino in fondo. Quindi nello sport bisogna anche lottare, sudare una vittoria. In qualche modo creare pathos anche così è una qualità. Può piacere, può strappare anche il cuore del tifoso. E ti aggiungo anche che a piccole dosi, a piccole dosi, in questa squadra si vede anche qualche cosa di voler creare in certe situazioni. Ieri mi è piaciuto tantissimo Blauic, te lo dico, poi ci vado nello specifico. Quindi questa Juventus è qui che è diventata un po' una Juve Max Special, perché sta diventando proprio speciale sotto questo punto di vista. E a questo punto, a meno due, bussa alla porta dell'Inter. Il 2 di picche lo dedico ad Acerbi. Sai perché non mi è piaciuta la sua uscita. Ha fatto l'economista, ci ha spiegato che la Juventus ha preso dei giocatori e ha speso tanto. La pressione nelle grandi squadre, Stefano, tu mi insegni che è normale che ci sia. Cioè una grande squadra che fa degli acquisti, tra l'altro ha speso 90 milioni l'Inter. E' chiaro che tu dici che devono vincere lo scudetto, tra l'altro lo stesso Marotta dice che vuole la seconda stella. Quindi dovrebbe parlare con Marotta. Poi a questo punto sai che ti dico, Acerbi ci potrebbe anche spiegare i debiti dell'Inter e la mancata approvazione del decreto crescere. E perdonami, dopo questa tua analisi, questo incipit, io mi alzo e me ne vado. No, no, chiudo con gli ultimi due giorni che me li faccio. Ho detto per Lockman, che ieri firma una partita per l'Atalanta importante con uno strappo decisivo dei suoi. E' il giocatore più decisivo? No, dopo Lautaro. Sì. Dopo Lautaro. Dopo Lautaro. E poi ho detto Vlauic perché ieri è vero che non ha segnato, però ha tirato, ha ripiegato, ha fatto un colpo di tacco veramente. Cioè questo è il vero Vlauic, gli manca il gol, però veramente ci è piaciuto tanto ieri. E' stata una delle sue migliori partite con la maglia della Juve. Sì.